Rampa dice che il sindaco fa solo colonie per i bambini e per gli anziani, però cura poco la manutenzione, è così? Allora, quella è una battuta, il fatto che faccia solo colonie per bambini e anziani, non è il sindaco che organizza colonie, ma è l'assessore delegato che sarà Picone. Questa è una cosa che fanno tutti i comuni, per cui non è una cosa che si sono inventati chissà che cosa. La gente aveva l'opportunità questa volta veramente di cambiare le cose dopo 30 anni e non è stato fatto, non l'hanno voluto e adesso c'è un malcontento generale, però c'è un malcontento che non viene dimostrato, non viene pubblicamente espresso. Malcontento per cosa? Per tutto. Allora, ci sono opere che oramai sono quasi decennali, abbiamo un polifunzionale che sta così da 20 anni, c'è un ponte qui dietro al campo sportivo che doveva essere inaugurato secondo il sindaco a ottobre, in campagna elettorale, disse taglierò il nastro a fine ottobre, siamo a luglio, forse a ottobre del 2022. Questa è la piazza del paese, la nostra fontana, che potete vedere c'è una luce accesa all'interno, distrutta logicamente, tutte le luci non funzionano, una funziona per far vedere che funziona sempre, ormai sono 4-5 anni che funziona, siccome le paghiamo noi, queste bollette, noi cittadini, questo consumo energetico, tutti passano, tutti vedono, ma nessuno se ne frega niente. Io dopo una settimana che sono stato fuori, sono tornato al cimitero a trovare i miei e ho visto una cosa obbrobriosa, siccome non ci sono loculi, uno si deve pregare a Castellalto, Castelnuovo di non morire, perché se muore qualcuno adesso deve andare alla cerca.